C'è un'invenzione che potrebbe rivoluzionare il mondo dei rifiuti e della differenziata, non più sacchetti lasciati fuori dalle proprie abitazioni, ma una macchina che distrugge l'umido e lo trasforma in concime liquido, un'invenzione già brevettata e presentata a Trinitapoli da Ruggero di Benedetto. Dobbiamo eliminare tutti i cassonetti che ci sono, l'apparecchio trita tutto e diventa acqua, compreso il risciacquo, basta due minuti e da un chilo fino a cinque chili viene tritato tutto, è tutto biologico e serve per ingrassare i terreni, altrimenti va mandato tutto in fogna con un po' di enzimatico per far sì che non fermenta. Non un comune trituratore ma un bio tritatutto, un bidone che trasforma gli scarti alimentari in liquidi organici in grado di essere utilizzati anche come concimi, dopo pranzo per esempio è sufficiente buttare le bucce della frutta nel macchinario e schiacciare un bottone, il resto lo fa da sé. Nel giro di pochi minuti quegli scarti diventano acqua utile per fertilizzare il terreno o abbeverare il bestiame. Possono anche pensare di mettere una turbina e questi liquami si essiccano nelle vasche oppure con una turbina di vento si fa un concime secco. Un'invenzione che è stata presentata anche alle istituzioni che stanno pensando ad alcuni progetti con i comuni così come spiega l'inventore Ruggero Di Benedetto. Ho parlato con l'assessore Sandorsola il quale si è riservato un po' di tempo e ha detto che stanno facendo un progetto per i comuni e quindi noi partiremo da Trinitapoli e da Apricina. Grazie. 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 Grazie.